Cari amici del canale, mi trovo ancora in compagnia di Andrea dalla FGS. Ciao carissima, è sempre un piacere vederti. Allora ragazzi, questo video riguarda chi? Gli amici del canale che hanno il desiderio di avere la trifase. Di solito chi vuole la trifase? Non certo chi vuole potenza, perché dall'ultimo video avete visto anche che con i paralleli della Victron arriviamo veramente a potenze inimmaginabili, superiamo i 100 kW di potenza tranquillamente. Ebbene serve più che altro a coloro che hanno dei macchinari trifase, hanno comprato dei fallimenti con delle bindelle da falegname, dei torni, apparecchiature trifase già in possesso di apparecchiature trifase che vogliono fare andare nel fai da te con energia autoprodotta. Ebbene oggi vedremo come si fa grazie ad Andrea che mi aiuta sempre in questo repertorio Victron che è sempre vastissimo e sapete che faccio sempre tanti video poi nella sfera dell'energia fai da te che è vasta. Ragazzi andate a vedere il video precedente, quello che parla della monofase 3 inverter in parallelo. Quando avete visto quello Andrea adesso vi farà vedere qual è il punto in cui vi dovete fermare e da lì l'impostazione per la trifase. Bisogna andare nei dettagli per capire bene che cosa fare senza rovinare apparecchiature. Come iniziamo questo video? Dite qualcosa? Hai detto tutto correttamente, riassumo solo un dettaglio che fondamentalmente le esigenze poi di avere un trifase al giorno d'oggi si riducono nelle situazioni che stavi dicendo dove ci sono dei motori, dei motori elettrici probabilmente vecchi dove non è possibile ricablarli per farli andare in monofase. Sai che tu un motore lo puoi ricablare con un condensatore, un stella triangolo. Se insomma in una certa situazione questa cosa non la posso fare, ma appunto mi trovo un bel torno vecchio, un bel torno graziano degli anni 60 come quello che abbiamo in officina che ha bisogno comunque di un trifase e non mi va di cambiare il motore perché comunque ha la sua storicità, ecco che ho bisogno del mio trifase. Certo, anche perché quando modifichiamo un motore abbassiamo anche le potenze. Quindi se abbiamo bisogno di mantenere la trifase e la sua potenza abbiamo bisogno di questo video. Adesso io divento come al solito telecamera, cameraman scusate, la telecamera è quella che avrò in mano. Magari potessi diventare una telecamera. Ebbene andiamo a vedere attraverso il computer e Andrea i dettagli semplici di questa modifica. Buona visione ragazzi. Ecco Gianni, ripartiamo dal software WebAS System Configurator che abbiamo visto per la configurazione di un sistema di più macchine messe in monofase. Ricordiamo ancora una volta, meglio ripetersi, che una qualsiasi configurazione di più macchine in parallelo e quindi quella che adesso vediamo in trifase va eseguita con macchine dello stesso modello. Tutto uguale. Inverter, il multiplier, se sono i 3000 sempre quei 3000, se sono i 5000 sempre quei 5000. Partendo dal mio pannello di configurazione delle macchine che il sistema, devo averle già accese ovviamente, il cavetto di programmazione me le sente online, non devo fare altro che dirgli che anziché un sistema singola fase, devo dirgli qual è il sistema che voglio creare. Quindi tu vedi che abbiamo delle opzioni anche interessanti, a noi interessa il trifase. Per passare rapidamente, guarda un po' che cose curiose che mi fa fare anche Victor, un bifase a 120 gradi, un bifase a 180 gradi, un bifase a 240 gradi. Quindi non so neanche dirti in che situazioni servono questi sfasamenti, ma noi ci accontentiamo di un monofase e un trifase generalmente. Anche qui mi chiede in un sistema trifase un'altra opzione, quindi se voglio che le fasi 2 e 3 siano fisse oppure floating. In questo caso, anche qua, sono cose che Victor stessa dice che sono rarissime, quindi non tocchiamo niente. Intanto c'è la versatilità nell'utilizzo per impianti particolari. Lasciamo trifase con fasi 2 e 3 fisse. Questo è un altro parametrino interessante. Io posso dire, siccome sto facendo un trifase, sicuramente ho almeno 3 macchine con un trifase. Quindi mi chiede, a differenza di un monofase, avendo 3 macchine, quindi 3 macchine monofase che mi funzionano in trifase, io voglio che l'ingresso di queste macchine sia un unico ingresso, quindi un unico ingresso di un generatore trifase, oppure voglio anche avere dei singoli ingressi monofase che posso andare comunque a caricare le mie batterie nel sistema trifase di uscita. Questo poi lo vediamo in un altro punto, quindi generalmente comunque chi ha un trifase di sistema ha anche un trifase di generatore o rete, quindi lasciamo che ho un ingresso, un ingresso o rete. A questo punto vedi che si sono accese le fasi L2 e L3. Io le macchine adesso le ho ancora tutte sulla fase 1. C'è l'attribuzione, l'attribuzione sulle macchine. Non devo fare altro che trascinare la macchina, una macchina sulla fase numero 2 e una macchina sulla fase numero 3. In questo caso poi come vedi le macchine nel repiloghino mi fa vedere la loro matricola, in base a come le ho cobrate posso fare attenzione al verso delle fasi, se voglio una ciclicità con una certa rotazione posso poi esportarmi qual è la numero 1, qual è la numero 2 e qual è la numero 3. A questo punto tu vedi che abbiamo L1, L2, L3, ognuna con impostato una macchina, una macchina e una macchina. Vedi qua le matricole. Mi dice che il setup non è ancora stato inviato, però non ho più dei device non configurati, quindi li ho configurati tutti. Se vedessi 4 macchine, 5 macchine, li mi direbbe attento, guarda che devi ancora configurare quelle che restano. Ho messo le 3 macchine sulle fasi, non vado a fare altro che devo andare a inviare la configurazione. Prima di inviare però ti faccio vedere una cosa importante. Come ti dicevo prima, se andiamo a generare un sistema trifase, molto probabilmente avrò come generatore, come sistema di ingresso sempre una trifase, che sia un generatore o la mia rete. Ma ammettiamo il caso che sono in una situazione remota, ho bisogno di questo trifase, ma il mio generatore per ricaricare le batterie è soltanto monofase. Come faccio a collegare un monofase al sistema trifase? Dovrò dire da questo pannellino che tutto il mio sistema Vixen trifase dovrà, sul lato ingressi, switchare come un gruppo, anziché no. Se lascio impostato switch as a group, se non avrò una fase su ogni ingresso dell'inverter, quindi un generatore trifase effettivamente funzionante, le macchine non bypasseranno questa energia e non caricheranno niente. Se invece rimuovo questa spunta, se io vado a rimuovere questa spunta, ecco qua, vedi qua, switch as a group, se io vado a rimuovere questa spunta, il sistema non switcherà più come un gruppo, ma gli permetto di switchare anche singolarmente per ogni macchina. Quindi se io mi trovo un generatore, un gruppo elettrogeno monofase, lo posso collegare, nonostante abbia configurato il sistema come trifase di uscita, potrò collegare un monofase sull'ingresso di uno qualsiasi degli inverter e solo quello, in quel momento, andrà a caricarmi le mie batterie. Questo è un dettaglio molto importante, fate bene a spiegarlo, perché se no a volte gli amici del canale non ci sarebbero mai neanche arrivati. Esatto. Quindi togliere la spunta... Una cosa che mi fa presente Victron è che se vado a fare una cosa di questo tipo non posso assolutamente impostare un country code, quindi non posso immettere per forza in rete, ma è ovvio perché sto pensando di utilizzare dei generatori fondamentalmente. Il country code, abbiamo già detto, non va impostato, perché se no, se dobbiamo poi modificarlo, ci chiede codici che non abbiamo nel fai da te. Ecco, io in questo caso, in questo sistema trifase, andrò a lavorare con la mia rete trifase di ingresso, quindi nel momento in cui gliela collego, voglio che tutte e tre le macchine switchino contemporaneamente. Lasciamo switch as a group e andiamo ad inviare la configurazione. Ecco fatto. Tu senti che gli inverter si sono risettati e sono ripartiti. A questo punto stiamo andando a generare le nostre tre fasi, ognuna sfasata dei nostri 120 gradi classici, quindi un trifase a tutti gli effetti. Perfetto. Ragazzi, all'inizio di questo canale vi avevo promesso che avrei aiutato chiunque a produrre la propria energia alternativa. E significa anche aiutare gli amici che hanno la trifase, obbligati da qualche macchinario antico, vecchio, o comprato con qualche fallimento. Ebbene, grazie a FGS siamo arrivati anche a questo punto. Un video molto semplice, vi ripeto, che va abbinato alla configurazione che vedete nel video precedente, cioè sui tre paralleli, invece di tre paralleli monofase, facciamo i tre in trifase. Andrea, come lo chiudiamo questo video? Lo chiudiamo ringraziando tutti quelli che ci seguono, perché comunque è per loro che facciamo tutto questo. Il secondo in seguito che devo ringraziare sei tu, comunque, perché sei promotore sempre di tutta questa energia, più che dal canale, di questa energia che ti devo ringraziare. Che scaturisce dai nostri... Ma il prossimo video sarà come utilizzare questa energia umana, corporea, per ridurci alla matrice, no? Come facevano, che riduciamo il corpo umano a batteria. No, scherzi a parte, effettivamente siamo circondati da energia, ma in questo caso noi ci accontentiamo di quella elettrica. Assolutamente sì. Già ci permette di fare cose fantastiche. Ragazzi, io ringrazio sempre la FGS. Sotto c'è il link per chi vuole acquistare da FGS, farsi montare l'impianto o avere un'assistenza telefonica. Tutti i servizi che loro fanno, il prezzo è giusto, ma soprattutto la trasparenza, la faccia che ci mettono e l'onestà. Come al solito, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo. Buona serata. Grazie a tutti.